Allora, amici del Draghistan, dunque non so se avete sentito la notizia di quel professore lì in Calabria che praticamente si è dato fuoco davanti ad una stazione dei carabinieri poi, tra l'altro, quindi lui voleva evidentemente, voleva mostrare a tutti questa situazione, la sua disperazione, eccetera, se no chiaramente non avrebbe fatto una cosa del genere, si sarebbe suicidato a casa sua ovviamente, questo ragazzo, insomma questo signore ha 33 anni, quindi molto giovane, comunque stamattina è deceduto perché aveva delle ostioni ovviamente sul 70% del corpo, quindi chiaramente difficilmente ce l'avrebbe fatta, comunque ovviamente si sono scatenate le polemiche, ma sempre per le cose sbagliate, si sono scatenate le polemiche perché qualcuno ha detto si è scandalizzato, perché, diciamo, è stato ripreso questo qui, è stato ripreso, anche se comunque sicuramente è vero che in una situazione di sofferenza magari la ripresa non è proprio la cosa ideale, però allo stesso tempo io credo che lui volesse visibilità per questa storia, perché se no ripeto si dava fuoco a casa sua o si buttava dal balcone, non lo so, ma comunque non avrebbe fatto qualcosa di così plateale, quindi secondo me per scegliere questa modalità, insomma, di tra virgolette protesta, io credo che la visibilità la volesse come, purtroppo non ce l'ha fatta, però chiaramente la gente invece di scandalizzarsi per quello che sta succedendo, cioè invece di scandalizzarsi perché un professore deve, è costretto comunque da questi ricatti di stato, da queste cose che stanno, da questo schifo che stanno, da come stanno gestendo in maniera vergognosa questa situazione, chiaramente loro si vanno a scandalizzare perché lui è stato ripreso. sì, sicuramente, ripeto, può essere una cosa, può essere un'osservazione anche giusta forse, anche se, ripeto, secondo me lui voleva la visibilità perché se no avrebbe fatto un altro tipo di gesto e comunque in ogni caso, secondo me, bisognerebbe essere scandalizzati per le motivazioni che hanno portato questo ragazzo a fare quello che ha fatto. Invece in Draghi stanno sicura che adesso si sta parlando del festival di Sanremo, ci scommetto qualsiasi cosa che stanno parlando di questo, tutti allegri e felici quando invece ci sono persone che per questo ricatto di stato se la stanno passando molto male, molto molto male. Quindi, chiaramente questo è un gesto estremo ma che si può tranquillamente ripetere in qualsiasi momento. Allora, forse qui si vede meglio. Allora, quindi dicevo, quindi le polemiche ci sono state alla fine per tutta questa storia della ripresa, non tanto per i motivi che sono la base di tutta questa faccenda. Comunque, io non so adesso i media italici come stanno trattando l'argomento. Io immagino, le opzioni sono due, o non ne stanno parlando per niente, quindi come al solito stanno buttando sabbia sopra, oppure stanno sicuramente dicendo, qualora proprio dovessero menzionare questa notizia, sicuramente vanno a dire che questo qui era un povero, psicopatico, depresso, eccetera, eccetera. Io sono sicura che tireranno fuori qualcosa del genere. Un po' come succedeva, per esempio, non so, per il terrorismo, dove ogni terrorista invece di dire come mai faceva determinate cose, perché insomma c'era ancora una qualche ideologia dietro, loro dicevano che questi erano dei pazzi che si svegliavano la mattina e ammazzavano la gente senza motivo. Ma lo sappiamo benissimo che non è così. quindi il politicamente corretto chiaramente ci sta sempre in queste storie, non può fare a meno di entrare in queste storie. Per cui, niente, sicuramente anche qui sarà la stessa cosa. Io come al solito i medi italici non li guardo assolutamente. Se vengo a sapere qualche notizia è perché circola in rete, chiaramente. Però io già immagino, quindi sapendo come trattano le cose, sapendo che ormai sono fin troppo prevedibili questi qua, io ormai sappiamo benissimo le cose come le trattano. Per cui, insomma, sicuramente sarà così. Comunque, sempre più nazioni si stanno tirando indietro, se ci fate caso. La Spagna si è tirata indietro. In Austria la Corte Costituzionale ha richiesto delle spiegazioni, dei dati più più, insomma, più certi. Addirittura Israele, che è stato un po' la, come dire, la capostipide di tutta questa follia, insieme al Draghistan, pure ha detto guardate, eliminiamo questo, lascia passare perché tanto non è servito a niente. In Canada sta succedendo tutto quello che sta succedendo, il primo ministro si è scappato da qualche parte. Negli Stati Uniti, dove Bidon aveva pure, insomma, stava, aveva proposto questo obbligo di no, quello ai lavoratori, eccetera, eccetera, ma anche lì la Corte Federale, insomma, ha detto di no, ha detto assolutamente no, questa cosa non si può fare. Quindi, mano a mano, la Gran Bretagna, come sapete, insomma, come sto dicendo, è, insomma, è libera, ma già da parecchio eravamo liberi. Quindi, diciamo che, poi ci sono i paesi scandinavi che secondo me stanno proprio per i fatti loro, la Russia che sta per i fatti suoi, anche in Svizzera, anche in Svizzera c'era il lascia passare per alcune attività e anche stanno facendo retromarcia, quindi io vorrei sapere questi qua quando si muovono. Quindi, ormai, ormai questo mostro volante dà una sintomatologia simile a quello influenzale, per cui non si capisce, quindi al di là della, come dire, della protezione sicuramente degli anziani, dei fragili, io sono anche d'accordo, per carità, però al di là di questo io penso che ormai si potrebbe anche smetterla con questa storia. Quindi le persone, almeno le persone, come dire, dai bambini fino ai, diciamo, sessantenni più o meno, parlando sempre di persone sane, io penso che ormai potrebbero anche vivere in maniera normale. Quindi, poi, chi vuole, chi si è sempre liberi, chi vuole, diciamo, vivere in maniera più reclusa, con 12 museruole, può sempre farlo, nessuno gli va a dire niente, anche qui ogni tanto c'è qualcuno che ha portato la museruola, è liberissimo di farlo, sei liberissimo di farti ginocoli, di metterti la museruola, di vivere a casa, di vivere murato vivo, per carità, fai quello che vuoi. Però, diciamo, il punto è che però poi la nazione, il paese, si deve rimettere in moto, si deve riprendere, perché non è, qui per esempio i locali sono pienissimi, io mi ricordo fino a qualche tempo fa che sono stata in Draghistan, era un mortorio, era un mortorio totale, anche di sabato, di sabato sera, anche a ridosso di Capodanno, quando generalmente, per esempio, un sabato 30 dicembre, qualcosa del genere, generalmente i locali erano pieni, perché, insomma, sempre siamo usciti durante quelle giornate, quelle sere, beh, era un mortorio, era assolutamente un mortorio, per cui questa cosa deve assolutamente finire, non si può, io non penso che possano tirare avanti ancora a lungo, perché veramente non, diciamo, è una cosa ridicola ormai, quindi speriamo che, insomma, speriamo che il ragone, insomma, ci ripensi un attimo e faccia ripartire l'Italia normalmente, perché io penso che ormai questa situazione sia insostenibile. Comunque, niente, volevo riportare la notizia di questo ragazzo, che, insomma, è una cosa proprio vergognosa, vergognosa, veramente un paese civile proprio non dovrebbe assolutamente permettere una cosa del genere, invece, secondo me, loro stanno a parlare del festival, un'altra mi... stupidata, un'altra stupidata, va bene, va bene, va bene, vediamo che altro succede. Vai?